Ligthorkerit per diffondere la luce, insieme. Imparare a guardare all'insù. 4 giugno 2012. Promemoria da casa. Fare buoni errori. Traduzione di Madda Cermelli. Saluti da casa. Carissimi, la vibrazione, che è in questa stanza mentre diciamo queste parole è la vibrazione di casa. Quando sentite queste parole, voi anticipare quello che viene dopo e vi aspettate un miracolo. Nel momento in cui i creatori si aspettano un miracolo, essi creano un miracolo. Dovete soltanto entrarci dentro da qui in avanti. Troviamo molto interessante il fatto, che iniziamo questa discussione su una nascita, perché entrambi i lati del velo ed entrambe le transizioni nascita e morte sono incredibilmente importanti. Sul pianeta Terra, voi temete la transizione della morte e tuttavia celebrate la transizione della nascita. Non vi è nulla di sbagliato in questo, carissimi, soltanto capite che noi siamo dall'altra parte del velo a fare esattamente il contrario. Per noi la transizione più difficile è quella della nascita, perché per un'anima significa fingere di essere separata. Ma ricordate la gioia, che provate nel celebrare una nuova nascita, perché è esattamente la gioia, che sperimentiamo noi quando accogliamo una nuova anima a casa nel processo, che chiamate morte. Quando ritornano a casa da noi e li festeggiamo, affidiamo loro un incarico e li spediamo in un nuovo viaggio per raccogliere ulteriori informazioni. Teoria del flusso di particelle Carissimi, in questo giorno vogliamo parlare di qualcosa che è molto importante per noi perché è in realtà un cambiamento nella vostra percezione. Sta succedendo molto lentamente e speriamo di darvi una piccola spinta oggi portandolo alla vostra attenzione. Vi mostreremo come si inserisce nel vostro mondo e come lo avete usato in passato. Tutta l'umanità sta cambiando mentre entrate in questa nuova energia. Il nuovo mondo, che attualmente state costruendo è un mondo di acquisizione di potere, è l'era dell'acquisizione di potere. Questo significa un nuovo livello di responsabilità verso voi stessi, le vostre energie ed i vostri doni per diffonderli sul pianeta Terra. Permetteteci di farvi un esempio di quello di cui stiamo parlando oggi, perché può aiutarvi a capire un semplice flusso di particelle. Considerate la meravigliosa analogia dei fiocchi di neve. Useremo tale illustrazione, perché è stato solo poco tempo fa che il custode e la custode del custode guidavano in Amsterdam in una delle più grandi tempeste di neve, che mai avessero sperimentato. Se vi mettete per un momento in quella macchina mentre guidate in una tempesta di neve, vedrete un'anomalia, che desideriamo portare alla vostra attenzione. La neve sta scedendo dall'alto, ma mentre vi muovete in macchina sembra venire direttamente verso di voi. Infatti, potete immaginare di viaggiare attraverso un flusso di particelle di neve, che vengono costantemente verso di voi. Vorremmo prendere questa analogia per usarla nella vostra vita, in modo da potervi far vedere le diverse parti di questa analogia mentre arriva questo flusso di particelle. Quando siete molto molto piccoli, ci sono poche particelle in quel flusso. Ne prendete soltanto una ogni tanto. Crescendo, la vostra vibrazione cosciente aumenta e questo all'effetto di far aumentare il diametro del vostro flusso di particelle lasciando entrare più particelle. Gli umani naturalmente si riferiscono a questo periodo, questo spesso dà agli umani la sensazione, che il tempo si riduca con l'età. Ci fu un tempo non molto tempo fa in cui voi iniziaste ad esprimere le vostre creazioni. Iniziaste a svegliarvi dal sogno ed eravate in grado di prendere uno di questi canali di particelle e ridirigerle. Chiamavate questo co-creazione perché l'energia entrava e voi semplicemente la indirizzavate. Non dovevate creare l'energia, ma come creatori, la dirigevate. Avete imparato a fare questo in diversi ambiti della vostra vita, a volte consapevolmente altre no. C'è una differenza nel modo in cui percepite le cose oggi. Ritornate all'idea del flusso di particelle per un momento. In primo luogo diciamo che siete diventati molto bravi nella co-creazione, dirigendo il flusso. Adesso il vostro mondo cambia mentre l'automobile interrompe la sua marcia in avanti. In precedenza l'illusione è stata che le particelle sembravano arrivare direttamente verso di voi mentre guidavate, quando in realtà esse cadevano verso il basso per tutto il tempo. Era l'illusione del movimento in avanti della macchina, che faceva sembrare che quel flusso di particelle venisse verso di voi. Allora, che cosa succede? Consideriamo un fiocco di neve come un'esperienza di qualche tipo. Non è quello che siete venuti a fare sulla Terra? Non era per questo che siete qui? Siete qui per collezionare esperienze e portare a casa la collezione delle vostre esperienze più profonde, significative dalla Terra? Sì. Subflussi. Così state vivendo queste esperienze e possiamo considerare ogni esperienza come un fiocco di neve. A volte ci sono grossi fiocchi a volte ce ne sono di piccoli. Voi integrate i piccoli fiocchi molto facilmente. Adesso supponete che ci sia una bolla energetica di 10 piedi n diti un piede uguale 30,48 centimetri intorno al vostro corpo e noi la chiameremo semplicemente il vostro mondo. Che cosa succede quando una particella entra nel vostro campo energetico e nel vostro mondo? Anche la più piccola particella altera il vostro mondo. Una volta che entra nel vostro campo, dovete cambiare il vostro campo. È molto semplice. Adesso voi state incorporando qualcosa che prima non c'era, così naturalmente dovete armonizzarvi con questo evento per integrarlo. Che cosa succede quando qualcosa entra? Un grande fiocco di neve entra e cambia il vostro mondo, e la prima cosa, che fate è riscrivere la vostra storia per adattarla alle vostre attuali circostanze. Non abbiamo mai pensato a questo, ma voi l'avete fatto. Pensiamo che siate così interessanti ed affascinanti. Voi fondamentalmente cambiate la vostra storia per includere nuove particelle. Ogni giorno mentre invecchiate, iniziate a ricevete sempre più particelle e a trovare degli usi per ognuna di queste parti al fine di ancorarle in qualche modo nel vostro mondo. La sfida nasce perché tutta l'umanità adesso si sta muovendo molto rapidamente. Non state più facendo passi da bambino. Tutta l'umanità sta correndo ad un ritmo sostenuto adesso, muovendo verso queste meravigliose date che erano solite rappresentare la fine del mondo. Adesso state cambiando le cose con i vostri pensieri prima di arrivare là ed è una cosa magica. Pensiero d'insieme. Allora che cosa succede con questo flusso di particelle e come potete usarle? Ecco quello che vi diciamo. Voi attualmente gestite ogni particella che entra nel vostro campo. Tuttavia, non avete mai pensato di osservarle da una prospettiva diversa per determinarne la provenienza e per anticipare ciò che è davanti a voi. Permetteteci di spiegarvelo in modo un po' diverso. Adesso, la macchina è ferma e ci sono tutti questi fiocchi di neve che scendono. Che cosa fate quando ci sono tutte queste cose, che entrano nel vostro campo? La prima cosa, che cercate di fare è di indietreggiare per vedere l'immagine più ampia. Quello che state facendo in realtà è alzarvi e guardare giù alla visione di insieme di ogni cosa. Questo è stato il modo tipico in cui gli umani si sono evoluti. Ogni volta, che vedete l'immagine più ampia e qualcosa non si adatta, voi create un'immagine più grande ed evolvete la vostra realtà per adattarla alle vostre circostanze. Adesso vi chiederemo di farla ruotare di almeno qualche grado, perché cambiarla completamente metterà completamente sotto sopra la vostra vita. Ma iniziare a giocare piantando quei semi prima del tempo può essere strepitoso. Come potete farlo? Effettivamente è un grande cambiamento, perché significa ripensare a molte cose alle quali avete pensato prima. Se siete nell'era degli umani con pieni poteri, a scuola non potete insegnare ai vostri figli che questo è giusto o questo è sbagliato. Dovete iniziare ad insegnare ai vostri figli a trovare le loro risposte piuttosto che dire loro di raccogliere dei dati dalla memoria. Per fare questo, molti dei vostri sistemi dovranno cambiare. Molti di voi hanno dei muri che hanno messo davanti a sé per proteggersi. Questi muri non sono giusti o sbagliati, ma è semplicemente una normale reazione umana. Adesso dovrete lasciare andare i muri e fare quel passo nell'autenticità, dove siete chi siete indipendentemente da ciò che pensano gli altri. Ora siete beri e potete fare le connessioni a quelle particelle senza preoccuparvene. Invece di sforzarvi di vedere la nuova visione, permettete a voi stessi di fare buoni errori e di imparare lungo il percorso. Ognuno di voi guida un'auto. Pensate che l'autovettura funzionasse la prima volta che è stata fatta? Aveva ogni sorta di problemi, ma gli umani amano così tanto la macchina. Si è evoluta, una cosa ha portato ad un'altra ed oggi avete automobili molto affidabili. Non dovete nemmeno pensarci e preoccuparvi di tutti i dettagli quando la mettete in moto per andare da qualche parte, perché l'avete perfezionata nel corso degli anni. Questo è ciò che vi chiediamo di fare adesso. Non cercate di capire ogni cosa, osservate soltanto le energie mentre vi vengono incontro ogni singola particella ed integratele una ad una consentendo a voi stessi di essere vulnerabili lasciando cadere la protezione e semplicemente permettendo a voi stessi di essere voi. Sì, è facile per noi dirlo perché non abbiamo mai avuto corpi umani. Capiamo le difficoltà che sperimentate con questo e sappiamo che non è una cosa facile e quella che vi suggeriamo. Tuttavia, ogni volta che permettete a voi stessi di fare un errore e di imparare da esso, voi progredite. Anche mentre diciamo la parola errore ci sono molti di voi che hanno difficoltà a sentirla. Non dovete necessariamente essere perfetti, è sufficiente che tendiate alla perfezione. Il problema con l'avere una visione di insieme perfetta è che voi vi siete attaccati alla vostra visione. Invece, se accogliete ogni particella che entra e trovate il punto più alto per questo, allora consentite a voi stessi di danzare nella luce ancor prima che sia qui. Cambiare la storia e imparare a guardare all'insù? Vi chiediamo, carissimi, di guardare in alto invece di guardare in basso. Imparate a vedere che siete creature che si evolvono in un posto incredibile. Riconoscete che non dovete necessariamente essere perfetti e non dovete essere attaccati alla vostra storia, perché quella storia è la vostra identità. Quella storia è stata molto importante per ognuno di voi, l'avete etichettata, le avete attribuito dei nomi e progettate quella storia. Ma questo crea un divario tra la realtà e ciò che credete essere la vostra storia. Quel divario è ciò che blocca molte creazioni ed impedisce alle persone di andare avanti. Così come fate questo? Voi danzate nella luce. Permettete a voi stessi di essere umani e quando fate degli errori, ci ridete su. Divertitevi con tali errori, ed insegnate ai vostri figli ad andare là fuori e fare un sacco di buoni errori. Quando tornano indietro con un grande b-b-b-b-b-b-b, dite quello è stato un errore grandioso, tesoro. Vai a farne altri. Cerca di non rifare lo stesso, ma esci e colleziona altri errori. Dimmi quanti errori puoi fare sul pianeta Terra. Ora abbiamo spostato la visione dall'alto verso il basso da dove adesso guardiamo su. Adesso permettiamo a noi stessi di crescere nella nostra acquisizione di potere. Ecco a che punto della vostra evoluzione vi trovate proprio in questo momento. Questi sono tempi incredibili sul pianeta Terra. Carissimi, voi risveglierete molti dal sogno. È per questo che siete qui in questo momento. Voi avete una parte per tutti noi. Se possiamo mettervi in una situazione in cui vi sentite a vostro agio e sicuri, e dove non avete paura, quell'informazione verrà fuori e voi inizierete a costruire il Paradiso proprio qui sulla Terra. Inizia con una sola particella. Godetevi i fiocchi di neve. Danzate nella luce. La prossima volta, che un fiocco di neve vi cade sul viso e si scioglie, ricordate questa storia e ricordatevi di guardare su, perché è lì che tutti voi siete diretti. Il cambiamento nella vostra percezione cambierà istantaneamente la vostra realtà. È con il più grande onore che vi chiediamo di trattarvi con rispetto reciproco. Aiutatevi a vicenda ad ogni possibile occasione e tenete la porta aperta per gli altri. Sappiate che è un gioco nuovo quello che state facendo e giocate bene insieme. Espavo Il gruppo